Eccomi qui con il grandissimo Emiliano Mazzini, una sorpresa per un grandissimo che estimo amminutantissimo, tra i miei preferiti, il grande Federico Zampaglione. Ciao Federico, una grande sorpresa per te, grande promotore degli incontri di box, oltre ad essere un grandissimo cantante, musicista e un grandissimo poeta. Ciao Federico, ti ringrazio di stare sempre a presto insieme a me, un grande appassionato ripugilato, oltre che un buon intenditore, anche capace di farlo e spero che il primo agosto insieme vinceremo questo mondiale. Un abbraccio, vedrete, ciao! Grande ragazzi, ciao! Grande, ciao!